La notizia delle notizie è che la fondazione ha promosso l'azione civile penale contro chi ha procurato lo tsunami di cui si è parlato per tantissimi giorni e tutti i media locali lo hanno riportato a chiarissime lettere, i famosi milioni che sarebbero volati via e che ancora non si sa che fine abbiano fatto. Ecco, avete promosso questa azione civile e penale, naturalmente è un'azione che portano avanti gli avvocati del Foro di Roma, l'avvocato Lattanzi e Ventura. Beh, questo è una bella notizia, no? Ma bisogna vedere da quale punto di vista è una bella notizia, per noi sicuramente sì, perché era necessario iniziare, intraprendere questa azione perché Civitavecchia e la fondazione, dico Civitavecchia perché a Civitavecchia la fondazione ha dato e potrebbe dare molto. Se in questo momento dobbiamo stare attenti e dare meno di quello che veniva dato precedentemente proprio a causa di tutto quello che è successo, per cui era necessario intraprendere questa azione civile. Come hai già detto tu, è stata affidata a due avvocati del Foro Romano, per il penale l'avvocato Lattanzi e per il civile l'avvocato Ventura. L'avvocato Ventura saranno loro che già da lunedì prossimo verranno presso i nostri uffici per continuare l'esame della documentazione che può servire a loro presentando la tribunale di Civitavecchia per procedere e cercare di mettere a posto questo tassello. Qualcosa ci può essere nella nostra città che abbia contribuito ad agevolare... Ma la Rini ha fatto dei nomi però. La Rini ha fatto dei nomi che vanno però verificati perché non basta fare dei nomi. Anche io posso dire che Gian Piero Romiti aveva fatto parte della truffa. Poi mi servono però delle altre prove. Ora vedremo se la Procura, il Tribunale e il Svizzero abbiano già in mano ulteriori prove che possono andare a favore di questa azione civile che noi abbiamo promossa. Grazie. 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 Grazie.